salve ragazzi bentornati nel mio canale quest'oggi ci ha giocata la partita di coppa italia la semifinale di ritorno tra juventus e inter allora 0 a 0 nel complesso allora passa la juventus perché aveva vinto 2 a 1 l'andata e quindi di conseguenza passa la juventus di pirlo su pirlo calmi mi devo ricredere avete ragione comunque che sì comunque pirlo sta facendo una buona stagione era partito non benissimo poi era arrivato per un attimo un po cioè non dico crisi però insomma c'era un periodo che stava andando male poi dopo le vacanze appunto natalizie si è ripreso e veramente secondo me la juventus è favorita intanto per vincere questa coppa italia allora juventus che a partita diciamo subito con un atteggiamento un po più difensivo dato che appunto l'inter doveva segnare due gol per passare quindi diciamo che aveva preparato pirlo aveva preparato la partita insomma più difensivamente e poi per partire in contropiede no però alla fine possesso palla sì siamo la 49 per cento della juve contro il 51 per cento dell'inter allora diciamo che è stata una partita sicuramente non noiosa anche se appunto non non ci sono stati gol ecco non tiri proprio cioè spettacolari da ambe le parti e tranne qualche spunto di ronaldo che come al solito lui pericoloso un grande fuoriclasse però diciamo che la differenza tra ronaldo il solito ronaldo che noi siamo abituati è che quando crea le occasioni quest'oggi cioè quest'oggi appunto ne ha sprecate molte quindi diciamo che sì secondo me un paio di occasioni sprecate dalla juventus in contropiede perché poi l'inter però pressava pressava molto spesso che la juventus doveva ha cominciato a impostare dal basso appunto con buffon cioè che e poi anche bentancur soprattutto nel secondo tempo c'era stata appunto cioè una juve che no perdeva un po di perdeva il pallone quindi perché questo perché l'inter cioè pressava bene ha fatto un'ottima partita l'inter cioè diciamo che la juventus però un po contro la romano aspettava un po la appunto l'inter per così poi sfondare qualche contropiede micidiale ecco dato che i velocisti ce li ha però poi quest'oggi una partita comunque bella dai ricca e le occasioni interessanti ecco secondo me la juventus può vincere questa questa coppa italia dato che adesso sarà in finale contro la vincente di domani che farò sicuramente il post partita di ovviamente intendo tra atalanta e napoli quindi ragazzi che vi devo dire io quest'oggi non è che tifavo una squadra o l'altra poi si la razza gemellata con l'inter ma diciamo che cioè io volevo solo che insomma l'inter perdesse molte energie perché così domenica andiamo meglio ovviamente a batterli no perché gemellaggio si ok ma fino a un certo punto quando domenica dobbiamo vincere a tutti i costi bene poi diciamoci la verità diciamo che in questa partita è stata comunque tutto sommato una partita anche con molti tocchi di prima da parte dell'inter e inter che secondo me fa un gioco un po troppo prevedibile secondo me perché alla fine è sempre il solito gioco e sponda lukaku l'autaro martinez che poi allargano per akimi che veramente oggi ha fatto secondo me una grande partita anche barella corre dappertutto è instancabile però comunque non sono riusciti e non sono riusciti appunto perisic secondo me noi si è veramente troppo prevedibile perché mi crossi sempre con il sinistro prima o poi ti bloccano perché ovviamente se fai se crossi sempre con un piede poi cioè non sono così stupidi i difensori della juventus poi negli ultimi minuti la juventus cioè era diciamo che non poteva fare altro che appunto difendersi tanto non aveva molto altro da fare però cioè diciamo che è stato anche bravo l'inter un po perché non è facile poi andare appunto a torino e fare una partita così però i gol non sono arrivati anche perché cioè cross prevedibili veramente troppo lunghi non proprio precisi no ecco e poi la difesa della juventus era ben schierata cioè complimenti a pirlo che poi ha fatto anche dei cambi sensati secondo me però c'è diciamo che la verità pirlo ha preparato bene la partita veramente qualche tiro però sinceramente non mi ha mai dato l'inter la sensazione di poter segnare molti gol perché alla fine poi soprattutto appunto ripeto negli ultimi venti minuti più o meno c'è stata una difesa della juventus per tutta la partita una grande difesa poi però quando è entrato anche giorgio giorgio chiellini veramente c'è stata ci hanno schierato la la corriera no davanti non il pulmino come siamo abituati a dire ecco e quindi con questo e poi la juventus e avrà una sfida importante di un campionato però anche noi ovviamente e detto questo concludo qua il video iscrivetevi al canale mannaggia c'è molti di voi c'è quasi il 50 per cento che guardano i miei video non sono iscritti quindi che aspettate ad iscriversi ad iscrivervi non capisco vabbè poi in altro nelle schede video precedenti sotto in descrizione il link per seguirmi su instagram e per votare al sondaggio per il futuro di questo canale e poi come al solito anche diciamo troverete il link per seguirmi su instagram diciamoci che due parole un attimo sul comunque sul gioco in generale che l'inter diciamo che mi è piaciuta tratti anche se gioco ripeto troppo prevedibile l'autaro martinez anche lukaku sì però non riuscivano a fare molto per stramerito della difesa della juventus perché quest'anno veramente pirlo secondo me sta facendo bene conte secondo me si rivela un allenatore un po' secondo me un po' sopravvalutato ecco secondo me è un po' sopravvalutato perché adesso negli ultimi minuti secondo me non aveva senso avere così tanti appunto difensori no perché allora ne hai tre difensori però allora te vedevi che lì te provavi a crossare quindi se vuoi proprio crossare almeno togli un difensore e metti un attaccante in più in modo che magari riescono magari metti non so che ne so io pinamonti così magari riesci a sfruttare di più i calci appunto i calci d'angolo oppure mi metti un centrocampista in più però togli cristo santo un difensore in più cioè cosa ti serve quel difensore in più toglilo no metti un attaccante in più cioè quel difensore era in più secondo me e in quel caso potevano togliere cioè appunto secondo me anche cioè alla fine era riuscito anche sì comunque bastoni che secondo me ha fatto una bella partita è entrato Kolarov che comunque sì però diciamoci che appunto secondo me andava messo cioè con una difesa 1 a 2 addirittura con un centrocampista in più ancora e un attaccante in più perché lì era tutto ormai in una cioè poi se la Juventus faceva un contropiede e riusciva a risegnarti comunque non avevi nulla da perdere quindi se io fossi stato in conte avrei provato fino alla fine a segnare che non si sa mai poi magari un gol poi ti gira bene e prendi anche un calcio di rigore negli ultimi minuti e riesci a concretizzarlo quindi secondo me io avrei fatto così ecco poi Chiesa è entrato non ha fatto molto ma ha giocato veramente poco gli ultimi spiccioli della partita poi Perosi ce l'ha già detto comunque il mio quindi ecco detto questo io vi saluto da Marco Sport 41 e tutto e ci vediamo domani con il post partita di Atalanta e Napoli semifinale di ritorno di Coppa Italia che deciderà chi sarà la sfidante appunto della Juventus in finale di Coppa Italia arrivederci e buona serata